Cari amici ben ritrovati. L'aria fredda proveniente da nord-est continua ad affluire sull'Italia. La penetrazione di un fronte freddo sull'Adriatico genererà un minimo depressionario a ridosso della Puglia. Il freddo toccherà il suo apice nella giornata di giovedì e l'insinuarsi di una nuova depressione complicherà le condizioni atmosferiche anche al meridione, che tra domenica e lunedì vivrà una ricaduta, la quale determinerà il tempo per il resto dei giorni della prima settimana del mese di dicembre. Ma vediamo il tempo per la giornata odierna. Al sud resta ancora instabile, specie su Molise e Puglia. Calabria e Sicilia saranno invece le regioni più colpite dal maltempo per i prossimi giorni. I primi forti temporali stanno interessando il basso Tirreno, provocando nelle prossime ore forti piogge e locali nubi di faraggi, con temperature in costante calo. Sarà insomma una settimana polare. La giornata odierna sulla nostra provincia vede brevi rovesci alternate schierite, con temperature in calo comprese tra 11 e 10 gradi. Venti moderati soffieranno da nord-ovest, con raffiche fino a 36 km orari, ed il mare nello stretto di Messina sarà molto mosso, con un'altezza d'onda superiore ai 2 metri. Il versante tirenico sembra quello più colpito, con piogge anche abbondanti, temperature tra 12 e 10 gradi, venti forti da nord-ovest e martireno molto mosso. Sul litorale ionico nuolosità sparsa e qualche pioggia. Le temperature in ulteriore calo si porteranno ai 9 gradi diurni e 8 nella notte. Venti moderati soffieranno da nord-ovest ed il mare nello sarà mosso. Nella giornata di mercoledì 27 novembre instabile con neve sino a quote basse. Il tempo continua a restare inaffidabile anche al sud, con schierite alternate ad annuvolamenti e ancora qualche rovescio, specie sul nord della nostra Sicilia. Sulla Lucania, sulla Campania e la Calabria interna ed il nord della Puglia. Sereno altrove, anche se continuerà a fare parecchio freddo, con ulteriore calo dei valori minimi, specie al nord e invece delle massime quasi ovunque. Sulla nostra provincia rovesci di pioggia, qualche schierite è prevista in serata. Le temperature non supereranno gli 11 gradi diurni e 9 nella notte. I venti soffieranno di moderata intensità da ovest-nord-ovest e i mari saranno mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Grazie per averci seguito.